Raccontare il reale nei tempi in cui l'irreale è più assimilabile grazie anche a qualche confusione prodotta, più che dalla rete, da utenti poco attenti. E il giornalismo è chiamato in causa, tra parole, cioè segni convenzionali, unità del linguaggio verbale e la fotografia. Sabato 13 e domenica 14 maggio al Media Museum di Pescara si terrà la prima edizione del Festival Flaiano Faux, una parentesi culturale che mancava di fotografia e giornalismo in cui il reportage viene analizzato nei suoi contenuti. La fotografia e il giornalismo sono comunque due discipline che appassionano tantissimo. Quindi il primo appuntamento, diciamo che rientra nell'ambito del cinquantesimo Flaiano, ma è nella prima edizione, ovviamente seguiranno moltissime altre edizioni. Quest'anno ci saranno dei nomi importantissimi sia stranieri sia italiani perché si darà molta attenzione al reportage e mai come in questo ultimo anno il reportage, soprattutto il reportage di guerra, ha avuto una importanza fondamentale nel raccontare ciò che accade nel mondo. Tra gli incontri anche quello con le giornaliste Giovanna Botteri e Gabriella Simoni sul tema «Vivere e sopravvivere, 30 anni di amicizie e conflitti» che si terrà il 13 maggio alle 18.30 presso il Cineteatro Siacosti Pescara. Mi piace dire che con i cambiamenti climatici del giornalismo degli ultimi decenni e con l'avvento dei social network spesso il reportage viene confuso, che sapete benissimo, è un lavoro di inchiesta, di approfondimento, viene confuso con la foto singola oppure i like, i follower e quindi poi si rischia che non è più giornalismo ma diventa un melting pot di stili, di cose come è successo per l'ultima guerra in Ucraina dove c'erano più social blogger che giornalisti. Cos'è uno speech? Allora, uno speech è essenzialmente il racconto che faranno i nostri fotografi in un'ora o meno, proprio un intervento su quello che poi è il loro ambito di lavoro quindi ognuno si è scelto un argomento ovviamente che fa capo al titolo del reportage del festival che è il reportage tra reale e irreale. I giornalisti potranno iscriversi all'evento attraverso la piattaforma dell'Orne dei giornalisti d'Abruzzo per il riconoscimento dei crediti.